30 camminatori e 15 ciclisti in 4 giorni hanno coperto il percorso da Imperia Limone con oltre 90 km di camminata e oltre 150 di pedalate. L'iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, è stata organizzata da Mone e Siyang in collaborazione con la FIAB Imperia ed è stata conclusa da una pizzata di gruppo Limone. Novità di quest'anno è l'abbinamento delle bici al tradizionale gruppo trekking a piedi e la salita in notturna al Monte Marguarez. L'Imperia Limone è stata come tutti gli anni occasione per riscoprire il territorio dal mare alle Alpi Liguri, nuovo per i partecipanti arrivati anche da Piemonte, Emilia Romagna e Olanda. L'associazione Liguri Antica L'Exte al sotto di San Lorenzo nel parco delle Alpi Liguri ha accolto i camminatori con una rievocazione storica. Quest'anno sono anche stati premiati simbolicamente partecipanti e guide, il più anziano Marco Veirana, presidente di FIAB di Guglio, pedalatore infaticabile, e la camminatrice più giovane classe 1990. Undici volontari hanno assicurato ai partecipanti tutto il necessario, dall'allestimento del campo tende della prima notte al trasporto bagagli, all'assistenza sul percorso. L'appuntamento con l'Imperia Limone torna ad agosto 2020.